Nuovi profughi in arrivo nella nostra provincia, almeno un centinaio quelli attesi già a partire dai prossimi giorni. La prefettura da tempo si è già messa alla ricerca di nuove strutture, visto che nei due grandi hub provinciali, quello di Bagnoli e la Prandina di Padova, si è già al limite. Nell'ex caserma di Via Orsini sono 102 migranti attualmente ospitati. Il sindaco in vista dell'estate ha chiesto al prefetto di risolvere la situazione dell'area a pochi passi dal centro per evitare il sovraffollamento dell'anno scorso. Ho chiesto in maniera molto chiara al prefetto di trovare una soluzione sulla Prandina e quindi aspetto che entro il mese di giugno mi venga data una risposta, che si aspettano i padovani. La situazione padovana è al limite, la Prandina deve essere sgomberata, chiede Bitonci, che invita i sindaci ad unirsi contro le politiche del governo sui migranti. L'appello lo lancio sempre agli amministratori locali, quello di stare uniti e lavorare insieme per cercare di respingere questo attacco che avviene alla nostra civiltà. Perché se il governo non vuole trovare una soluzione a livello nazionale, quindi creando magari dei campi in altre zone del paese che non hanno un'alta densità abitativa come al Veneto, però non si può neanche pensare che siano gli amministratori locali a risolvere i problemi. Alla Prandina pare inoltre che siano stati allestiti alcuni letti in una zona separata per sistema di profughi che presentano patologie come la scabbia. Non deve esistere in centro alla città un punto dove vengono curate queste persone. Queste persone devono essere curate attraverso le strutture sanitarie, quindi attraverso l'ospedale.